E' una zona 2-3 semplicissima, dobbiamo soltanto passare la palla e tagliare Sì sì, proprio la difesa di Erice è proprio come una genovese con ricotta, si taglia facilmente BOMBAAA! Di gol! BOMBAA! Che dedica ai suoi tifosi questa... E' pieno di Stefano, non riesce a trovare la prova adesso del tiro Sankulovic! L'ho chiamato, l'ho chiamato Sankulovic, l'ho chiamato ed è arrivato, è arrivato direttamente dal... Sbagliare! Ancora si lotta sotto il canestro... VALENTI! STRAORDINARIO VALENTI, SEMBRAVA L'ULTIMO DEI VOICANI! Tagli medievali, bensì per le genovesi alla ricotta... Ancora Muginello di Mansona Tazzo Tazzo Ricezione stile Ciccini Che l'ho a peperoso Mi stretto e mi stretto Tutte e due Valenti Stoppata Oh L'uninello per Spallino Andiamo a intervistare Nesta No L'uninello per Spallino